Ciao, 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 no, per carità, io ho guanti e mascherine sempre, non esco di casa senza e poi me li cambio spesso, diciamo che è una questione di igiene, d'altronde come dice il detto mens sana in corpus, vabbè, lo dice il detto, ammazza però qui che schifo, che incivili ehi, dico a te, ma non a te, te, lo so che te non lo fai, no, dico a te quell'altro, quello che se ne frega, tutto questo alla natura costa molto e in fondo basterebbe così poco, gettiamoli nel bidone dell'indifferenziata, in fondo a noi, ma che c'è costa?